io ve l'ho detto signori il focus principale in questo momento è juventus milan noi dobbiamo pensare a juventus milan perché è lì che passa il treno champions league e lì che dovremo fare tre punti importantissimi per arrivare a giocarci la coppa dalle grandi orecchie la prossima stagione e per questo oggi insieme a Daniele Brogna abbiamo deciso di fare una chiacchierata tra tifosi che saranno rivali nemici domenica sera ma che oggi ovviamente è fuori dal campo da gioco siamo grandissimi amici quindi preparatevi perché ne vedrete le belle ci sarà una bellissima chiacchierata che proseguirà anche sul suo canale poi trovate tutti i link dei suoi social qui sotto in descrizione anche il video della parte 2 che vedrete appunto là di là e io vi invito a mettere un mi piace a questo video a iscrivervi a questo canale perché siamo quasi 200 mila iscritti e dentro la prossima stagione dobbiamo arrivarci e festeggiare un nuovo inizio una nuova juve e un nuovo canale di luca e scaricare one football qui sotto in descrizione per capire come ci arriveremo appunto a quel juve milan di vitale importanza signori scaricate one football perché importantissimo per finire questa stagione e per iniziare con la successiva con il mezzo europeo calcio mercato il vostro cellulare scoppierà è gratis ci vediamo il video bocca al lupo ragazzi di un milan tesi e allora danni niente questa domenica c'è una partitina no che partita c'è una c'è juventus milan e possiamo dire che è la partita del campionato italiano perché personalmente così non so se te senti più il derby e senti più la juve no io io sento più il derby sì però in questa stagione cioè ora come ora è ovvio che questa partita volevo giocare tutte le partite tranne questa sai ma guarda penso che bene o male anche noi perché penso che sia il juve milan più bello perché ci si gioca qualcosa gli ultimi anni ma anche il più brutto perché arriviamo malissimo tutti e due cioè arriviamo in un momento posso dire anche il più anomalo nel senso che negli ultimi anni juventus milan è sempre stata una partita affascinante come sempre come giusto che sia però il milan non si giocava mai lo scudetto quindi non aveva senso in quel in quell'ottica lì ma è mai successo nella storia che juve milan si giocassero il quarto posto guarda non lo so però ti faccio un parallelo che ci ho passato l'altro giorno noi quest'anno abdichiamo dopo nove anni diciamo addio a al filotto di scudetti che è iniziato nella stagione 2011 2012 proprio contro il milan e invece l'ultimo anno in cui lo perdiamo contro il milan ci rigiochiamo completamente ridimensionati l'accesso alla champions che per noi ormai è diventato abitudine per voi invece vitale perché adesso vado a memoria ma saranno sei sette anni che dopo il quinto anno ho smesso di contare hai smesso di contare quindi più di cinque comunque anche perché ho scoperto che questa roba qua non ha più senso e uno la ricollega più agli anni che non ci siamo che alle champions che poi se devo contarti gli anni in cui non vinco la champions guarda io non l'ho neanche mai visto di vincere la champions però adesso magari è così anche per te in queste due serate tra martedì e mercoledì che ci sono state le semifinali di champions io le guardavo con gli occhi sgranati e dicevo ma noi siamo lontanissimi in questa roba qua però almeno qualificarci per sperare nel miracolo l'anno prossimo non so come ma guarda no nel senso io sono non sto scherzando sono anni che la champions la segue però in maniera comunque distaccata perché mentre tu quest'anno è il primo anno che sei un po con la strizza di roma non è che il prossimo anno per sbaglio non ci sono sono tristemente abituato e questo fa fa male perché prima champions era era praticamente casa mia mia intesa come milano ovviamente quindi mi sono ti ripeto tristemente abituato all'idea ma guarda che ti dico che la capisco questa cosa perché c'è stata la prima semifinale che è stata l'andata a madrid real madrid chelsea che io non l'ho guardata nel senso l'ho accesa avevo la tv lì e nel mentre al computer facevo tutt'altro avevamo il live su twitch mi ricordo che era in live ti giuro ma mica per la partita è partito inizialmente ha fatto indigestione di calcio e venivamo dal pareggio con la fiorentina no era proprio l'idea di dire mi distacco completamente invece adesso sarà perché sento che sia noi che voi tra l'altro inaspettatamente ce la possiamo davvero giocare l'accesso a a questa questa nuova champions league e pensare che non ci sono neanche per uscire con l'ajax col porto con il leone che ormai mi mancarti anche uscire con l'ajax quando ci si usciva con l'ajax pensate siamo arrivati a questi momenti qua è così è così posso farti tu obiettivamente la partita di domenica nel senso come la vedi c'è che partita ti immagini è un disastro ma guarda io credo di non aver mai ragionato negli ultimi nove anni in questo modo per la juventus ma la juventus adesso non gioca calcio e dirti è colpa di pirlo è colpa di ronaldo è colpa di paratici colpa di agnelli è colpa di tutti questo momento si è sgretolata completamente un gruppo un'idea di di gerarchie anche se vogliamo c'è l'allenatore il presidente guarda solo il festino di bala mckenner tour una roba del genere negli ultimi nove anni non sarebbe mai successo anzi tante volte succedevano succedevano cose così da altre parti e si diceva la juve sta roba non succede mai abitiamo capisci quanto ci si è ridimensionati quindi sicuramente poi alla fine qualcuno pagherà e magari proprio pirlo e pensare che tra l'altro pirlo si gioca tantissimo del suo giudizio allenatore proprio contro il milan anche qua lo scherzo del calcio se lo giocava con gattuso qualche qualche tempo fa nello scontro diretto col napoli se l'è giocato con in zaghi dove ha perso in casa col benevento il benevento è quattro mesi che non vince una partita ne ha vinta una in quattro mesi con la juve a torino c'è anno è stato un campionato cioè me lo immaginavo abbastanza diverso anomalo e imprevedibile sono successe delle robe assurde però si rientro un po nel momento secondo me anche sociale strano non rientra tutto in questa grande strada io ti ripeto io avevo pronosticato una juventus seconda non ero ero non so perché convinto che non vincesse lo scudetto ma ammetto che pensavo ad una lotta juve inter fino alla fine non pensava ad una juventus comunque così rassegnata che si chiedeva danni cioè nel senso dopo nove anni uno accetta di non vincere ci mancherebbe altro l'ho messo in preventivo da un po di tempo in realtà prima o poi sarebbe arrivato a questo momento ne eravamo consapevoli ma cadere così in senso verticale così in fretta già l'anno scorso forse un assaggino ce lo doveva dare però magari l'anno scorso si era detto beh magari sarri non è simpaticissimo allora si cambia cioè tra l'altro pirlo e sarri sono in contrapposizione netta perché sarri è un bravissimo allenatore con grande esperienza ma che a livello di personalità dentro la juve non si è incastrato pirlo è l'opposto personalità juve l'ha già vissuta sa com'è ma ad oggi non è un grandissimo allenatore perché ha appena iniziato quindi né una strada né l'altra ha funzionato e non è colpa loro probabilmente no io ti ricordo io ti ricordo che ne parlammo anche quando pirlo venne annunciato alla juventus nello stupore più totale dice cavolo come come fai tu juventus a volere proseguire un cammino rischiando dalla così tanto perché ti poteva andare bene per carità però io credo che ti può andare bene fino a un certo punto nel senso che ovviamente la mancanza di esperienza fa tanto fa tanto tu guarda anche gattuso come è cresciuto negli anni si è fatta l'esperienza al pisa al milan pian piano sono allenatori che crescono e ora gattuso per dire pian piano sta diventando un signor allenatore ovviamente sempre a livello nazionale per adesso perché gli manca magari l'esperienza però appunto inizi decidere di iniziare così un cammino con con pirlo mi è sembrato una mossa sicuramente al risparmio però anche un po ma guarda ti dirò da tifoso della juve tutti gli ultimi quattro allenatori che abbiamo avuto quindi conte allegri sarri e pirlo nel momento esatto del loro annuncio come allenatore della juventus ci sono stati forse più contro che però si ricorda allegri cavolo allegri sembrava avessimo preso il più scarso di sempre e io ero uno che allegri non gli stava mica simpatico e anzi mi stava palesemente sulle balle ma lo stesso conte conte arrivava da due esoneri tra atalanta tra siena tra bari in serie a aveva fatto malissimo conto fino a quel momento non parlare di sarri mandi via cinque anni di allegri in due dei champions ci vado a prendere sarri cioè sono sempre state scelte che lì per lì le guardi dici beh come e pirlo mi sembrava ancora una volta e quel beh come ma che non capisco io ma che loro magari lo vanno a scegliere per un motivo hai capito quindi io non ero completamente stupito alla scelta di pirlo perché ho detto ormai ci ho fatto le ossa tutte le volte che la juve mi annuncia l'allenatore dico beh chi è perché però quest'anno veramente si è sbagliato e ripeto non è solo pirlo cioè non è solo pirlo adesso è tutto un insieme si è stato forse il primo anno dove quel è iniziale ha avuto un senso ed è stato paradossalmente quello che te l'ha fatto terminare cioè forse per abitudine dicevo loro ci hanno sempre visto lungo beh allora sono io che sono stronzo non ci capirò niente invece invece forse l'unica volta che dovevi avere dei dubbi è stata l'unica volta che dei dubbi non ne avevi ma secondo me molto in contrapposizione al fatto che c'era davvero sarri e non si incastrava con l'ambiente juve quindi l'idea di eh vabbè se non si è incastrato cerchiamo di uno che si incastra pirlo è stato fin troppo buono probabilmente quest'anno cioè anche il fatto che vada in conferenza e dica ho fatto male io so che ho fatto male e lo sa anche la dirigenza è una risposta troppo onesta da una persona che ancora non ha capito come forse il mondo degli allenatori della comunicazione guardi post partita quante volte né post partita un allenatore dice effettivamente qualcosa uscite mai se non sono risposte ci ogni secondo me è la classica roba che ogni tanto ci sta per prendersi addosso tutte le critiche per difendere la squadra ogni tanto ci sta farlo sempre un po un sintomo di debolezza in un mondo in cui chi è debole non va avanti tu guarda conte ha mai ammesso cioè anzi lo scorso anno addirittura non solo non ammetteva i suoi errori che obiettivamente come tutti ha avuto ma addirittura puntava il dito verso l'esterno verso la dirigenza verso qua verso l'arbitro verso quest'anno è stato un conte secondo me diverso però responsabilità non c'è anche quando pensa ad ericsson per dire mai una volta dire mai 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 anche quando è uscito dalla champions quella serie è stata clamorosa con un cappello che diceva ma non ci avete un piano b sì però non ve lo dico perché sennò vi prepara c'è sembrava le comiche però capisci che sono tutti allenatori che hanno una personalità diversa ognuno lavora a suo modo è un po queste finali di queste semifinali champions non ho fatto il video su youtube faccio questa contrapposizione perché noi adesso siamo qua che ci interroghiamo ma pirlo va confermato perché è giusto dare continuità o è giusto ripartire ancora una volta a fare un nuovo progetto beh guarda queste semifinali di champions hai fatto psg contro city psg che ha cambiato e city che dà continuità con guardiola e passa guardiola real contro celsi real che dà continuità con zidane il celsi che cambia con tuchel e passa il celsi quindi qual è la strada giusta è proprio l'emblema del calcio secondo me quello che è successo nei semifinali secondo me ci vuole anche un tanta fortuna nel beccare allenatori giocatori nel momento giusto nel posto giusto la componente forma non fortuna nel senso che serve solo quella ma serve anche quella dipende anche come come si amalgama la squadra con l'amore l'empatia esatto secondo me in realtà tra pyrd la squadra io io da fuori non analizzo la juventus come ovviamente fai tu che la ce l'hai sotto una lente di ingrandimento perché si è tifoso bianconero però da fuori quel poco che vede comunque una squadra compatta io penso all'esultanza di pirlo al secondo gol contro l'udinese è una bella immagine quella per quello dico cos'è che è mancato quest'anno la juventus perché è messa così male rispetto alla rosa che ha anche secondo me al netto che il centrocampo è stato sempre un po il tono di achille ma ha una signora squadra ma io ti dirò una grande verità che adesso sta passando un po in sordina perché oggi questa è la juventus nel presente questa la juventus ma la juventus non è mica iniziato così la juventus ha fatto una buona prima parte di stagione nel quale si ballava aveva perso un po di po per strada però era ancora lì con la champions è ancora lì con la coppa italia era ancora lì col campionato esce col porto la squadra scoppia esplode c'è stata un'inversione tendenza tremenda ma io mi ricordo facevano i movimenti senza palla facevano tanta corsa adesso la squadra non sta facendo niente morata non serve più un calciatore ma che non sta in piedi artur non riesce a camminare un involuzione personaggio come morata o lo stesso artur mcchienni mcchienni ti ricordi mcchienni inizio stagione perché erano sei un altro è un altro per il portatore no ma soprattutto nella partita con l'udinese ad esempio l'ho vista sì era una juve che voleva il classico voglio non riesco non posso c'è lì se depol non allarghi il braccio quella partita è così è così infatti la mia milanista è stata una doccia fredda vabbè dai che con l'udinese avete preso un punto che è stato fin peggio abbiamo preso tanti c'è diversi punti no 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 ovviamente quello è il calcio quello è il calcio succede così come tante volte strameriti no però da milanista quella partita lì la guardavo anzi ti dirò mi ero anche un po' addormentato perché la notte prima non avevo cose mie personali che non voglio stare qui no e cazzo mi sono svegliato a un quarto d'ora dalla fine ho visto quella roba lì e ho detto ma guardate ma guardate è incredibile perché ti ripeto vediamo una juve propositiva vogliosa la rabbia c'era ma c'era tanta confusione a livello tattico a livello infatti il problema è che sembra che la juve più di così non riesca a fare in questo momento quando ti aveva fatto vedere che altre cose forse anche migliori le sapeva fare quindi si è arrivati a questo brutto momento e guarda secondo me juve milan è esattamente il momento migliore per ripartire a farle quelle cose che facevamo ic proprio secondo me io non vedo nessun momento migliore per ricominciare a fare altro calendario la mano parliamo di cosa seria juve il milan poi sassuolo abbiamo il sassuolo poi l'inter poi il bologna e in mezzo una finale di coppa italia tra l'ultima e la penultima giusto esattamente è quella finale di champions dopo a fine maggio quella alla fine quindi quella sì abbiamo tempo per prepararla però io ti dico una cosa fino adesso abbiamo parlato tanto di juve e secondo me ci sta anche iniziare a parlare un po di milan però lo facciamo magari sul tuo canale ma lasciamo quest'alibi su no no continuiamo continuiamo sul tuo canale ma io voglio sapere cosa ne pensi tu però è bene parliamo insieme quindi ragazzi se passano qui sotto in descrizione trovano il link al tuo canale il link al tuo video e continuiamo di là va bene ci sto facciamo io a dopo